Per parlare con i miei nipotini ho imparato a usare il computer. Non sentivo più come prima, ma non volevo rinunciare a chiacchierare con loro. Per non rinunciare a nulla sono andata da Amplifon. Ho fatto il controllo dell'udito e la prova di una soluzione acustica. E ora, ma hai sentita meglio. Per sentirsi meglio, basta provarci. A maggio controllo dell'udito e prova per 30 giorni gratis. Chiama 800 500 700. Grazie a tutti.